Più aggressiva del solito e con un picco molto più precoce degli anni scorsi, l'influenza dilaga in tutto il territorio, viene da lontano. Quest'anno si chiama australiana e non è affatto da sottovalutare. È più virulenta del solito, come evidenzia il dottor Gabriele Frausini, ex primario del reparto di medicina dell'ospedale Santa Croce di Fano e solo da pochi giorni in pensione. Questa è una cosa che ci aspettavamo perché dopo due anni di Covid e con tutte le precauzioni doverose che abbiamo adottato, il virus ha circolato di meno. Quest'anno in effetti l'australiana ha avuto due caratteristiche. Un picco più elevato, il più elevato degli ultimi 14 anni, tema di influenza stagionale e per fortuna il picco è stato già raggiunto in anticipo perché intorno alla cinquantesima settimana dell'anno 2022 si è stimato che il picco fosse stato raggiunto, a differenza degli altri anni quando avveniva tra la fine di gennaio e febbraio. Le vaccinazioni ci coprono da questa malattia e sono state predisposte in tempo perché abbiano effetto? Sì, la vaccinazione anti-influenzale è una vaccinazione che funziona ma bisogna chiarire subito che la vaccinazione anti-influenzale è contro un virus. Esistono in circolazione tutta una serie di altri virus che non vengono coperti in maniera completa dal virus anti-influenzale e chi si è vaccinato e poi sperimenta una qualche malattia pensa di non essere stato coperto dal virus mentre molto spesso sono altri virus che possono interessare il paziente. Non si distinguono l'uno dagli altri, neanche dal Covid. La sintomatologia è quella che tutti ormai conosciamo, raucedine, febbre, mialgie, cefalea. Non si può fare una diagnosi differenziale, le sintomi sono sempre gli stessi. È pericolosa l'influenza fino a pregiudicare la vita delle persone? Io credo che l'influenza sia in questo momento pericolosa come il Covid. In una persona sana è difficile che una malattia virale possa causare dei danni irreparabili. In una persona fragile invece è una patologia estremamente delicata. Tant'è vero che le società scientifiche sono anni e anni che raccomandano la vaccinazione anti-influenzale nei confronti di tutta quella popolazione anziana e fragile. Faccio un esempio, un'influenza in un cardiopatico importante può portare a delle conseguenze poco favorevoli. In una persona sana, con un po' di riposo, con un po' di farmaci anti-infiammatori e anti-piretici, un po' di idratazione, la patologia si risolve nel giro di 4-5 giorni. Sembra che la malattia coinvolga sempre più i bambini in età pediatrica. La vaccinazione è consigliabile anche a loro? Non solo pediatra, il mio parere è personale. I bambini io non li vaccinerei. Al virus dell'influenza si associa il Covid-19. Per il dottor Frosini sono due cose distinte, che però devono essere affrontate alla stessa maniera. costituiscono un pericolo da non sottovalutare per gli anziani e le persone fragili. All'ex primario di medicina abbiamo chiesto di commentare anche l'integrazione tra territorio e ospedale, che costituisce l'obiettivo del passaggio del Santa Croce dall'azienda ospedaliera all'azienda sanitaria territoriale. L'integrazione tra territorio e ospedale è fondamentale. Non possono essere due entità che non si parlano, devono essere due entità che debbono collaborare, bisogna trovare le sinergie e bisogna trovare un'organizzazione che sia un'organizzazione che non penalizzi nessuno. La sanità deve essere vicina ai cittadini e una sanità deve garantire però ai cittadini delle prestazioni di eccellenza. Per cui l'integrazione tra strutture ospedaliere che dispensano eccellenze e l'organizzazione di base, dove i medici e medicina generale svolgono un ruolo fondamentale, ripeto fondamentale, è l'unica via per poter dare una sanità migliore a questo territorio. coordinare tutto questo è un compito molto difficile e dovrà essere fatto da persone illuminate.